Perchè è importante parlare di pertinenza nel marketing? Beh, allora diciamo che gli strumenti di marketing, la tua comunicazione, quindi quello che tu sostanzialmente comunichi nei confronti del mercato, beh questo mercato deve percepire che quello che tu stai andando a raccontare è proprio tagliato per quelle che sono le sue esigenze, per quello che è lui, per quelle che sono le sue caratteristiche. Cioè lui deve identificarsi, se tu per esempio risolvi un determinato problema, lui deve identificarti nell'impresa, nel professionista, nella persona che quel problema lo conosce molto bene e lo sa anche risolvere. Quindi questo è un concetto diciamo fondamentale nel marketing e che spesso non viene rispettato. Sì, lo è perché tanto più tu con il tuo messaggio sei pertinente e tanto più sarai efficace nel raccogliere il feedback. Quindi il concetto è un concetto tale per cui se chi sta dall'altra parte della tua comunicazione, del tuo strumento di marketing, vede nel contenuto, che può essere ovviamente testuale, audio, video, vede il racconto di se stesso, si specchia, dice questi stanno parlando a me, beh tanto più tu sarai in questa situazione e tanto più tu terrai incollato a quell'interlocutore e avrai tanta più possibilità che lui si avvicini a te. Quindi il principio della pertinenza è estremamente importante perché più pertinente è il messaggio di marketing, più efficace sarà, per efficace intendiamo proprio la capacità di creare feedback, la capacità di creare risposta. Sì, assolutamente. Secondo me sono due i concetti che mi vengono in mente associati a pertinenza. Uno è essere molto specifici, molto focalizzati, no? Perché tendenzialmente se tu comunichi in modo troppo ampio è difficile che chi sta dall'altra parte riesca a percepire questa pertinenza. Quindi il primo aspetto secondo me è questo che è molto importante nel marketing. E l'altro aspetto è conoscere molto bene chi sta dall'altra parte. Cioè tu devi conoscere, e questo spesso non viene fatto, il tuo target di riferimento, che problemi ha, che cosa non lo fa dormire la notte, di che cosa bisogna riconoscerlo molto bene. Perché altrimenti il tuo marketing non riuscirà ad essere così efficace e quindi la pertinenza avrebbe meno. Sarà molto anacquato, sono moltissimi concetti correlati alla pertinenza e la verticalizzazione, lo spacchettamento dei messaggi. Cioè oggi cosa tendono a fare le imprese? Tendono ad avere un messaggio unico per tutti, tendono ad avere del materiale unico per tutti, tendono a parlare nella stessa maniera per tutti i loro clienti. Magari hanno target diversi di clientela, anche non necessariamente molti, tu potresti avere 3-4 target audience diversi, ma dentro la stessa impresa tu potresti avere 3-4 buyer persona. Allora vedi che la matrice 3-4 settori, 3-4 buyer persona, hai già una serie di interlocutori che tu dovresti trattare con criteri di pertinenza, ognuno di loro. Quindi il concetto è, la traduzione di pertinenza significa segmentazione, focalizzazione, preparazione di contenuti specifici, tanto più lo facciamo, tanto più saremo efficaci. Più efficaci, ma la direzione, il mondo sta andando in questa direzione qua, nell'iper-mega segmentazione. Basta pensare secondo me anche a cosa sta succedendo anche online, vai su Amazon, cosa succede, lui capisce cosa acquisti, cosa guardi, ti propone, le soluzioni che pensa siano più adatte a te. Questo va nella direzione di mostrare sempre un messaggio che è più specifico, più pertinente possibile per chi sta dall'altra parte. Quindi la profonda conoscenza del tuo target è fondamentale, perché se tu non lo conosci è difficile riuscire a comunicare in modo puntuale. E come hai detto tu, attenzione, perché soprattutto nel B2B io posso vendere ad un'azienda che è un'impresa di un determinato settore, ma attenzione perché appunto all'interno di quella stessa azienda io potrei avere figure diverse, perché posso avere l'amministratore delegato da convincere come responsabile tecnico, ecco che la pertinenza devo farla sulla buyer persona, quindi quello che comunicherò al responsabile tecnico non può essere la stessa cosa che comunica l'amministratore delegato. Quindi è chiaro che bisogna fare dei messaggi sofisticati, ma attenzione che non è complesso partire intanto dalla consapevolezza che bisogna farlo, si può farlo e più sarai bravo a farlo, più efficace sarai nella tua attività. Certo, assolutamente. Io ricordo che il concetto di pertinenza mi è proprio entrato nel DNA quando ho fatto il corso da Google per certificarmi, era ancora Google AdWords, e proprio il web marketing ti avvicina tantissimo al concetto di pertinenza, perché un annuncio sponsorizzato che raccoglie appieno la ricerca dell'interlocutore sarà molto più performante, avrà tassi di apertura molto più alti. Google Ads che lavora con un'asta e con dei rating agli annunci, batte tantissimo Google su questo, cioè tu che fai le campagne sponsorizzate ricordati di creare degli annunci estremamente pertinenti, addirittura Google ti mette la possibilità di avere degli annunci con parola chiave dinamica, cioè il tuo annuncio che hai scritto in una certa maniera, l'algoritmo te lo cambia inserendo la parola chiave che ha cercato l'utente, perché tanto più lui vede in un annuncio cerchi scarpe rosse, se lui ha digitato scarpe rosse, cioè tanto più vede pertinenza e corrispondenza nell'annuncio e poi naturalmente nella pagina web dove lui entrerà. E nei banner che ti inseguono. Tutto c'è, il concetto di pertinenza nel web marketing è presentissimo e magari se ti leggi qualche mezzo libro di web marketing capisci quanto sia importante, ma non è importante per il web marketing, è importante per il marketing, tanto più la tua comunicazione parla specificatamente a chi sta dall'altra parte, tanto più vai su questo one to one e quindi parli a lui, parli dei suoi problemi, lui si medesima, vede nel tuo messaggio lui e questo è il segreto per essere estremamente più efficaci. Un piccolo consiglio, visto che abbiamo parlato qualche puntata fa di copywriting, l'importanza proprio di, nelle prime righe, se tu produci un pezzo che sia, come ho detto tu, una landing page o una lettera che decidi di mandare, beh, nella prima parte quello che è fondamentale è proprio agganciare il tuo potenziale cliente. Agganciarlo vuol dire l'effetto che tu devi creare è, wow, questi qua stanno parlando a me, mi conoscono, hanno toccato quelle corde che mi hanno fatto capire, che mi conoscono, sanno quali sono i miei problemi e quindi continuo nella lettura, compilo un form, avanza, alzo la cornetta, ecco, questo lo tieni se sei appunto pertinente, altrimenti il rischio è che qualcuno atterra sulla tua pagina e vada via, piuttosto che riceva una lettera, lega le prime tre righe e dica, non stanno parlando a me e abbandona quello che sta leggendo. Ecco, mi viene in mente una conversazione che ho fatto in questi giorni con un cliente, in questo caso un cliente potenziale, che vi ho detto, vi do voto 8, il 10 non esiste, quindi siete un margine altissimo e mi raccontava di come stanno affrontando a livello internazionale la loro attività di direct marketing e stanno creando dei verticalismi su numeri piccolissimi, quindi affrontano, non so, un mercato da meno di 100 aziende in determinati paesi del mondo e lo affrontano proprio con questo concetto qua, cioè vanno verticali su un settore, presentano nel caso di studio, cioè presentano alle aziende, clienti potenziali, ciò che hanno fatto per dei loro colleghi, competitor indifferente, per aziende che fanno lo stesso mestiere, hanno gli stessi problemi, hanno gli stessi mani di pancia e questa iper segmentazione, iper profilazione e soprattutto totale pertinenza perché chi riceve quel messaggio, chi riceve quei contenuti ti dice, si identifica, è certo, totalmente e hanno delle redemption molto, molto, molto alte, molto più alte della media, ok? Quindi non è neanche semplice riuscire ad arrivare a questo punto, no? Secondo me una piccola e media impresa deve fare un percorso su step, nel senso che secondo me già un grande passo in avanti è capire il fatto che la comunicazione non deve essere sempre uguale, generalista, già questo è un primo, dopo vai progressivamente, però ecco, il messaggio fondamentale è più pertinente, se più fai capire che conosci molto bene chi sta dall'altra parte e più sarai efficace, quindi è un altro aspetto importante, il mondo sta andando in questa direzione qui, quindi non si può restare indietro. Bene, penso che il messaggio l'abbiamo trasferito, mi raccomando cerca di applicare, se hai dei pensi diversamente non scrivere, non commentare, a parte questo mi raccomando il marketing al centro della tua attività. Ciao! Ciao!